L'Atalanta pareggia 1-1 contro la Fiorentina in una partita che obiettivamente regala un punto a testa che serve a poco, non cambia le sorti della classifica, poi chiaramente ognuno nelle dichiarazioni tira acqua a suo mulino, Pradedic che sono stati solo degli sparing partner, mentre Casperini tutto sommato dice che il punto è importante. La verità è che la classifica non si smuove di molto, che per carità a sua volta è anche un vantaggio perché si possono sempre perdere posizioni, però da lì essere contenti secondo me un pochettino ce ne vuole. Detto ciò come al solito faccio alcune considerazioni ovviamente a titolo personale, poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Sulla partita io credo che Casperini abbia anche interpretato bene la gara, con un'Atalanta più bassa, un'Atalanta leggermente più accorta, volta a non prendere i rischi, conscia dal fatto che comunque la qualità in qualche modo per infilare la Fiorentina ce l'ha. Ed è grossomodo quello che succede, perché poi pochi rischi alla prima reale occasione si passa in vantaggio. Mi soffermo anche su come nasce questa occasione, perché al di là della gran giocata di Mele il tutto nasce da Ederson che va con aggressività a prendere un pallone prima che il giocatore della Fiorentina lo liberi. Cioè va a spezzare una transizione, rimette la palla in campo per noi e a quel punto la difesa è schierata come è schierata e gli attaccanti possono agire. Cioè quella rottura, quel qualcosa in più, quello spezzare il ritmo, l'abbiamo visto in quel momento lì e poi l'Atalanta nella fase offensiva non l'ha più fatto. Ed è questo il problema, perché una volta raggiunto il pareggio, e sul rigore possiamo dilungarci quanto vogliamo, ma tanto la regola della ragazza è questa, se è contro l'Atalanta sicuramente rigore. Al netto di quella roba lì, una volta agguantato il pareggio, la Fiorentina alza i ritmi, l'Atalanta dovrebbe rispondere a tono, se non fosse altro per fare in modo che la Fiorentina attacchi con meno uomini, ma non riesce, non riesce a costruire, non riesce a creare una pericolosità che sia degna d'attenzione. Un po' di verticalizzazioni, qualche cross in area, ma veramente poca roba. La prima vera occasione del secondo tempo l'abbiamo al 96esimo. Questo è un dato che non può essere trascurato e non può non essere contato. Sicuramente a livello di mentalità, di atteggiamento abbiamo visto un'Atalanta decisamente migliore, molto più infervorata, molto più tenace. Però poi parliamo comunque di una partita in cui il tiro in porta sono uno. Io ho molta, molta difficoltà a commentare positivamente una partita di calcio in cui la mia squadra fa un tiro in porta. Poi, ripeto, si può vincere anche giocando così, per carità, però bisogna prendere atto che un tiro in porta non è una prestazione positiva e su questo io spero che siamo tutti concordi. Dopo, per carità, libero fischio in libero stato, però. A volte mi sembra veramente che ci siano delle valutazioni proprio un po' più di cuore che di testa. Per quanto riguarda le prestazioni, devo dire che mi è piaciuto molto Q Miners che, per carità, in tre quarti fa molta fatica, ma in questo momento in cui c'è il deserto là davanti, un giocatore con quella qualità spostato un po' più avanti, è molto utile. Infatti, spesso e volentieri le palle interessanti passano dai su ai piedi. In generale devo dire che comunque l'Atalanta, almeno la formazione iniziale, è tutto sufficiente, a mio avviso. Spottiello anche di più ha fatto due parate clamorose, se non era per lui non parlavamo manco di pareggio. Il problema è emerso con le riserve. Il cambio Eulund-Muriel non lo farei mai, perché Muriel oggi comunque non è in condizione di essere pericoloso e c'è poco da raccontare. Vero che può assegnare alla fine, ma non avrebbe pregiudicato la prestazione. Eulund ha avuto una giornata di difficoltà, ma comunque delle doti. E se la palla è rotonda possono capitarle fra i piedi e magari può anche segnare. So che è una valutazione un po' così, però secondo me oggi come oggi Eulund-Zoppo è meglio di Muriel. È un cambio che puoi fare all'ottantacinquesimo, giusto per spezzare un po' il ritmo, ma altrimenti c'è poca roba. Zapata è decisamente meglio, però anche lui oggi è un uomo da un centro boh, è un uomo da sponde e basta. E offensivamente ha tanta tanta difficoltà a penetrare, complice poi la staticità in generale del gioco. Perché poi è quello, se tu non vai mai in area col pallone non puoi neanche pretendere che gli attaccanti facciano gol. Siamo all'ovvietà, però questo è e questo va detto. E quindi l'impressione è quella che se ci fossero delle riserve, tenendo conto per carità che ci sono anche degli infortunati, che se ci fossero delle riserve che ti possono cambiare la partita, forse alcune occasioni potresti sfruttarle un po' meglio. Sono tutte valutazioni che andavano fatte a gennaio, perché sono valutazioni che andavano fatte a gennaio, adesso cerchiamo di arrivare in fondo e poi se ne commenterà di nuove. Faccio un'ultima osservazione sulla classifica, perché comunque è vero che la classifica oggi è una classifica positiva. Sono ben distante da quelli che usano la scusa della classifica per tutto, perché siamo lì, perché abbiamo fatto un inizio di stagione clamoroso, non per altro. E quindi mi rifiuto di prendere le prime dieci partite e usarle come giustificazione per tutto quello che stiamo vedendo. Però è innegabile che siamo lì, ci possiamo giocare tutto. Abbiamo tutta una serie di partite bene o male abbordabili, se si gioca in un certo modo, se si continua a migliorare dal punto di vista dell'intensità, se si recuperano giocatori su un partite che puoi andare a giocare. Non parto sicuramente vinto, quindi le nostre carte ce le abbiamo. I problemi che abbiamo ce li porteremo fino alla fine, è abbastanza evidente. Continuo a pensare che se un mese e mezzo fa non avessimo iniziato a negarli, ma ci fosse stata anche un po' più di trasparenza, forse oggi qualcosa in più riusciremo a fare, ma fa niente. Vediamo dove si arriva e poi si tireranno le somme. Io credo che l'Atalanta possa ancora fare bene, perché comunque sulla carta non c'è niente che lo impedisce. Deve trovare però nuove chiavi di lettura, nuove formule, nuove soluzioni da abbinare a un rinnovato spirito, perché altrimenti anche l'avversario più semplice diventa qualcosa di problematico e soprattutto un lavoro di testa, oltre che ovviamente poi un lavoro tattico. Come al solito vi ringrazio, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!